Personalmente ho sentito un po' la partita e è uscita una partita un po' così. Nonostante questo penso che a livello di squadra abbiamo avuto delle occasioni importanti che se sfruttate come dovevamo stiamo a parlare di un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. Quattro gol divorati, prendere gol prima dell'intervallo, andare a riposo in quella situazione potevate crollare del tutto, poi siete ripresi. Sì, è stata una bella ammazzata sinceramente, dentro i squadatori c'era un po' di confusione però siamo riusciti a compattarci alla grande, siamo usciti secondo me meglio al secondo tempo ci siamo alzati un po' come baricentro e la partita è andata un po' meglio. Abbiamo avuto subito l'occasione del pareggio e poi penso che in contropiede si è sfruttato meglio potevamo anche raddoppiare. Avevamo preparato la partita pensando che loro si schierassero in un'altra maniera secondo me hanno fatto una sorta di 3-3-4 molto offensivo e secondo me lo interpretavano anche molto bene nonostante concedevano l'uno contro uno nei tre difensori loro contro i tre attaccanti nostri. Però diciamo che un po' loro impianto di gioco l'abbiamo accusato, poi abbiamo preso le misure piano piano è andata meglio. Ma la demo perché è una partita particolare, comunque in play-out sei a zero a tutto e come ti ripeto l'andata è stata una partita che abbiamo avuto tante occasioni il primo tempo e è finita una a zero per loro. Nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio, abbiamo avuto meno occasioni quindi può succedere di tutto e credo sia fondamentale l'atteggiamento e la cattiveria dall'inizio non concedere nulla e essere cattivi in fase offensiva. È normale che sia noi che loro abbiamo paura di retrocedere, se sbagli qui non c'è ritorno. Con la differenza scusami che il Teramo non era costruito per salvarsi all'ultimo mentre Lumezzane probabilmente sapeva di fare quel campionato. Sì, questo conta poco perché poi è comunque una partita di calcio, è chiaro che chi sbaglia retrocede, è normale che ci sia tensione e paura, bisogna trasformarle in energia positiva, in cattiveria. Grazie. Grazie. Grazie.